Torna a Varese la Design Week, tra i principali eventi internazionali. Varese ospita nuovamente un concetto che si spinge oltre la forma, ma va a toccarne l'essenza. La città trasforma le proprie piazze in opere di design a cielo aperto. Scopriamo insieme come cambiare attraverso un design green, perché a Varese il futuro era ieri. Grazie.